Isola dei Famosi 2018, nuovo scontro tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Che Alessia Mancini e Rosa Perrotta non abbiano stretto amicizia in questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi è fatto ormai risaputo. E a Playhaw va la polemica è sempre dietro l'angolo. A incendiare gli animi, stavolta, un nuovo piccolo mistero, la scomparsa delle esche. Per l'organizzazione della pesca e della caccia ai granchi, Alessia Mancini ha tentato di inserirsi tra gli accordi di Jonathan Kashanian e la Perrotta. Il naufrago ha subito intuito l'atmosfera generale, siamo sinceri, oggi c'è una tensione, che fende l'aria. E in effetti, non aveva tutti i torti. Grazie alla fortuna di Simone Barbato con la raccolta dei granchi, anche oggi la cena è portata a casa. Ma è Marco Ferri e in dispettirsi per primo, toccava a lui la pesca al granchio. A suo avviso, all'interno del gruppetto dei naufraghi rimasti la routine e i ruoli devono essere rispettati. È questa la premessa al malcontento generale e all'ennesimo scontro Mancini per Rotta, entrambe in nomination questa settimana. Al calar della sera, l'ennesimo caso incombe sull'isola, Jonathan si accorge della scomparsa delle sue tresche per la pesca, andate a finire dentro al pentolone. Alessia, chiamata in causa, addossa la responsabilità dell'accaduto sulla perrotta, che a suo dire le avrebbe detto di mettere il calderone sulla fiamma. L'extranista, però, difende subito la propria posizione, neanche ci parlo con te. A suo avviso, il controllo della pentola spettava alla rivale Mancini. L'isola dei famosi vi attende questa sera in prima serata su Canale 5.